cazzo te l'ho lì figaro e cazzo ora gli ho messo lì anche il sasso da invito è più di così non si può fare e adesso lo tagliamo quello lì perché e gli ho messo giù l'invito e chi è vizio spettacolo solo che sta già andando via cazzo no ma c'è anche l'alternativa perché lì c'è l'altro sentierino che va lì e poi torna fuori in alto che l'ho fatto proprio per ridisperati e basta chi è che c'è indietro qua portiamo la loro due là dai via si arrangiano e lascia diventare non andiamo avanti dai pizzate che andiamo avanti e fa niente c'è la scorpa e il collo così andiamo là ai faggi e ci fermiamo là che riposate un po' riposiamo un po' tutti hanno rotto ma cazzo non è che li tagliano via e li mettono a posto no ceppano i rancoli hanno fatti quelle a piedi sicuro visto di merda di boh cazzo parte subito si vede che è allenata adesso molto meglio della mia la mia oggi non va un cazzo non parte un cazzo oh niente è cazzo parte un cazzo cazzo parte un cazzo